Ragazzi oggi facciamo un unboxing flash di queste cuffiette Oliaig Bluetooth 5.0 resistenti al sudore vediamo insieme come sono fatte e che caratteristiche hanno a subito dopo la sigla eccole qua a banco andiamo a vedere premo la scatola e vediamo subito il contenuto cavetto di comunicazione usb usb type c quindi molto interessante non c'è la ricarica wireless le ultime cuffie uscite anche le più scarse adottano questa tecnologia andiamo a vedere velocemente nella scatola la descrizione abbiamo una versione Bluetooth 5.0 distanza di trasmissione fino a 10 metri la possibilità di utilizzo fino a 4 ore per ogni ricarica e la ricarica della basetta che è questa che ovviamente fa anche da power bank circa un'ora e mezza a caricarsi questa basetta ricarica le sue cuffiette interne per circa 4 volte appena voi andate ad aprirla loro si attivano e si accoppiano tra loro questa è la loro basetta qui c'è l'attacco usb c queste sono le cuffiette molto carine e leggere e comode da indossare in più abbiamo anche una capacità di 45 miliampere per ogni drive e la basetta ha una capacità da 500 miliampere il peso di ogni cuffietta corrisponde a circa 4 grammi e mezzo 5 grammi luna quindi leggerissime hanno la connessione di tipo wifi ergonomiche per essere indossate in maniera del tutto confortevole sound ricco e anche touch control e i due led illuminati circolari andiamo a vedere solo come sono fatte poi ci aggiorneremo per la recensione appena le staccate si vanno ad accoppiare qua ci sono i led che vi indicano lo stato della ricarica della basetta ok adesso andiamo ad accoppiare allo smartphone bene andiamo ad associare le nostre cuffiette allo smartphone qui che abbiamo qui presente il lenovo z6 pro andiamo a vedere bluetooth ricerca teniamo premute le due cuffiette intanto andiamo a vedere come sono fatte guardate qui ci sono i pin per la ricarica che è magnetica qua ci sono i due punti in cui esce l'audio qui c'è un microfono quindi funzionano anche per le chiamate poi proveremo e vedremo che tipo di qualità hanno io preferisco questa tipologia perché non va a inserirsi nel cavo nel padiglione in profondità e per quanto mi riguarda sono molto più comode adesso mi infilo questa così vi faccio vedere come sta all'orecchio decisamente comoda e leggerissima non la sentite addosso si possono usare anche in modalità mono per una singola chiamata allora vediamo teniamo premuto vediamo se le rileva x buds eccole qui pairing si sono connesse proviamo a vedere come suonano velocemente mettiamo su un video si sente benissimo ragazzi bisogna escludere una delle due nel momento in cui c'è il pairing perché altrimenti se ne attiva solo una e l'altra rimane esclusa quindi alla fine connettendone una sola si collegano tra loro tutte e due quindi non fate la cavolata che ho fatto io di accoppiarle entrambe altrimenti ne funziona solo una delle due queste cose si provano nel momento in cui si fa l'abbinamento per la prima volta vi assicuro che il sound è spettacolare si sente davvero bene ragazzi audio pulito bassi potenti il prezzo si aggira attorno ai 40 euro ma ora vi mettiamo il codice sconto sotto al video e vedrete il prezzo finito con il codice sconto dedicato alla promozione 11 11 2019 perciò approfittate di questa offerta hanno anche i comandi touch e si può mettere in pausa e rispondere alle chiamate con due tap si mette in pausa e tenendo premuto si passa al video o al brano successivo vi dirò poi tutte queste info in fase di recensione completa perché dovremo provarle per qualche giorno prima di sapervi dire la vera qualità di queste cuffiette che però promettono bene le X-Buds approfittate dell'offerta e se siete interessati su Amazon potete sempre renderle quando volete detto questo vi saluto mi raccomando iscrivetevi al nostro nuovo canale Revotech perché abbiamo lanciato un messaggio nuovo stiamo facendo le cose in modo un po' diverso dagli altri e abbiamo bisogno del vostro appoggio e sostegno ringrazio i nostri canali partner, Fonblog Italia, Max Recensioni e tutti i gruppi su Telegram che ci sostengono ogni giorno malattie di smartphone, i gruppi Honor e saluto Ale, il cellulare di Enelio Tortora il gruppo dello zio Vox Group iscrivetevi e anche il gruppo China Deals and Friends e tutti gli altri nostri gruppi dedicati al mondo Xiaomi c'è anche il nuovo gruppo Minot 10 iscrivetevi anche al canale di offerte sempre aggiornate perché usciranno a breve le offerte più importanti dell'anno detto questo vi saluto, un abbraccio da Pasqui e ci vediamo prestissimo sia qui su China Deals che sul nuovo canale Revotech un saluto ne a tutti, ciao! un saluto ne a tutti, ciao!